Vediamo gli altri circuiti a scatto, in particolare i generatori di impulso. Impulso rettangolare. Sono quei circuiti che generano quel tipo di segnale che per esempio a teoria di segnale avete chiamato gate. Cioè un segnale che ha una durata prefissata e una forma rettangolare. Quindi la tensione varia tra due livelli, un livello di riposo e un livello, per così dire, attivo, il quale dura un tempo prefissato T. Quindi non si tratta di un segnale periodico, si tratta di un segnale che va attivato a comando. Quindi per un generatore di impulso dovremmo anche determinare qual è il comando che fa partire l'impulso. Vi faccio vedere l'esempio più semplice. che si ottiene prendendo un'altra volta il comparatore con i steresi. Diventa un circuito praticamente uguale a quello di un generatore di onda quadra, che però si blocca. In sostanza prendiamo un generatore di onda quadra e dopo mezzo periodo lo blocchiamo, in modo che faccia soltanto una semionda. Quindi com'è che si fa a bloccare? Questo è il comparatore con i steresi. Mettiamo qua il circuito che fa caricare e scaricare la capacità. Questo qui da solo sarebbe un generatore di onda quadra. Abbiamo già studiato insieme, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Com'è che facciamo a impedire che l'onda continui? Semplicemente dobbiamo mettere, ad esempio qua, in parallelo alla capacità C, un diodo. Vedete? Se mettiamo un diodo in questo modo, che cosa succede? Che la tensione sulla capacità C non supera mai Vγ. Perché quando arriva la corrente da R e fa raggiungere Vγ alla capacità, il diodo comincia a condurre e tutta la corrente che viene da R passa al diodo e non carica più la capacità. D'accordo? Quindi, in questo modo noi blocchiamo la carica della capacità e quindi impediamo che, come dire, abbia a luogo quel meccanismo di carica e scarica e di scatti della capacità. Va bene? Una volta fatto questo, dobbiamo anche trovare modo per far partire il circuito. Per esempio, a riposo, immaginate che la tensione sulla capacità sia Vγ, l'uscita qui sia V0, questa V sia uguale a V0, questa sarà β per V0 maggiore di Vγ, quindi questo non si muove più. Dobbiamo trovare un modo per farlo partire. Per esempio, qui ci vuole un circuito di accensione che fa, immaginiamo un lavoro del genere. mettiamo qui V, quando applico una tensione negativa qui su V, verso il basso, questa tensione scende, la capacità all'istante 0 non cambia, all'istante 0 più, diciamo, non cambia tensione sui capi. Quindi, la tensione su questo nodo, sul nodo più, insegue quella d'ingresso e scende, fa scattare il comparatore e quindi il circuito funziona. Perché tutto funzioni decentemente, abbiamo bisogno di fare in modo che poi, dunque, questo qui lo butto giù, poi questo in qualche modo ritorni su, per questo può essere adatto questo meccanismo, però qui bisogna fare in modo che la... ok, questo è un diodo, ok, vediamo piano piano che cosa serve. Queste qui chiamiamolo C' e R'. Allora, vediamolo con calma. Dunque, immaginiamo che per T uguale a 0 meno, a 0 arriva questo impulso. Per T uguale a 0 meno, immaginiamo che V sia uguale a V0, quindi V più sia uguale a beta V0, come al solito, e la tensione sulla capacità, Vc, sia questa, sia uguale a Vgamma del diodo. Quindi, il diodo conduce, se beta V0 è maggiore di Vgamma, ok, perché se beta V0 è maggiore di Vgamma, la tensione capi dell'operazionale è positiva e quindi l'uscita è alta e quindi la V è uguale a V0, quindi il quadro è completo. D'accordo? Quindi abbiamo trovato una condizione iniziale plausibile. In questa condizione, in pratica, il circuito può starci per un tempo indefinito. È una condizione di riposo per il circuito. Va bene? Ora, cosa succede se applichiamo una tensione negativa qua, una tensione, quindi un fronte in discesa su V? La cosa che succede banalmente è questa, se applichiamo un fronte in discesa, la capacità, come dicevo prima, in un tempo molto breve, non si carica, non si scarica, quindi la tensione sull'altro capo della capacità segue pari pari a V, scende nello stesso modo. Quando scende, il diodo conduce, quindi porta giù la tensione sul nodo V+. Se la tensione sul nodo V+, scende sotto Vγ, allora il comparatore commuta. Va bene? E questo è quello che volevamo. Poi la V può anche tornare su. Quando la V torna su, la tensione sull'altro capo torna su di nuovo, ma il diodo fa sì che il circuito non se ne accorga, perché il diodo fa passare la corrente solo in una direzione, e non la fa passare nell'altra, quindi, diciamo, il comparatore si accorge soltanto quando la tensione V scende, ma non si accorge di niente quando la tensione V sale. Va bene? Quindi il diodo serve a questo scopo, a far essere sensibile il comparatore solo alla discesa di V. Questa capacità, invece, serve a fare in modo che la tensione, diciamo che in qualche modo, la carica sulla capacità se ne possa andare. Quindi quando la tensione V sale di nuovo, la carica sulla capacità se ne va di qua, attraverso R, perché il diodo non conduce, perché altrimenti non si scaricherebbe mai la capacità C'. No, abbiamo bisogno di dare una via alla carica sulla capacità C' per uscire. Allora, adesso facciamo il solito... Quindi il meccanismo è questo, poi, quando si sblocca il comparatore, il funzionamento è quello del generatore di onda quadra. Quindi, l'abbiamo già visto, Per vedere tutto quantitativamente, facciamo il solito grafico delle varie tensioni nel tempo, in modo sincronizzato, e prendiamo questa tensione, questa tensione, e direi anche la tensione sui più. E la prendiamo anche la V, tanto per segnare. Quindi Vc, V più, V e V. Vc e V più li mettiamo sullo stesso grafico, perché quando Vc è uguale a V più, abbiamo la commutazione del comparatore. No, quando le tensioni di ingresso sono uguali, cambia il segno del comparatore. Allora, facciamolo nel disegno successivo. Quindi abbiamo detto, Mettiamo qui la V, poi mettiamo le due tensioni all'ingresso e all'operazionale, e in uscita, le tensioni di uscita. qui mettiamo sia V più, sia Vc, e qui mettiamo V. Allora, abbiamo detto che a riposo VU vale più V0. V più, eh, V più è sempre uguale, V più è sempre uguale a beta V, quindi sarà uguale a beta V0. V, immaginiamo che sia nullo, non è importante. Vc, la tensione sulla capacità, immaginiamo che sia uguale a Vgamma, che è questa quantità. Vgamma è più piccolo di beta V0, questo è Vc, in rosso, qui è uguale a Vgamma. Siccome Vgamma è più piccolo di beta V0, l'uscita è positiva, come abbiamo visto. Allora, ora, immaginiamo che a un certo istante, questo, questo sia l'istante 0, qui la V ha questo andamento, scende verso il basso, e poi risale. Quindi, che cosa succede in questo istante? sincronizziamo un po' l'asse di tempi. Quando la V scende, torniamo un attimo sul circuito indietro, ripeto, quando la V scende, si porta dietro la tensione sulla capacità, l'altro nodo, e quindi scende pari pari la V+. Vedete? Della stessa quantità di cui scende la V, scende anche la V+. Se la V+, scendendo, qui, è questa, no la V, no, la V+, è questa qui. Se la V+, scendendo, va sotto Vgamma, vedete, qui viene portata giù, come viene portata giù? Qui, in questo istante, è andata sotto Vgamma, adesso il comparatore commuta. Va bene? In questo, appena mi hanno portata giù, commuta. Quando commuta, questo va giù, va a meno V0, e V+, che è beta per V, deve andare a meno beta V0. D'accordo? Quindi, anche se la V torna su, ormai, dopo la commutazione, V+, segue il suo andamento, e va a meno beta V0. D'accordo? Quindi, vedete, abbiamo innescato la commutazione. Ora, a questo punto, che cos'è che succede? Guardate la capacità. la capacità si trova ad essere in una situazione di questo tipo. Torno un attimo indietro. Abbiamo la tensione qua, abbiamo questa capacità qui, la resistenza, e questa tensione, che è V. Questo è andato a finire a meno V0, e quindi la capacità tenderà a scaricarsi fino a raggiungere la tensione meno V0, con costante di tempo R per C. Quindi adesso, se io dovesse disegnare l'andamento, dovrei mettere qua, dovrei decidere qual è l'asintoto della capacità, immaginiamo che sia questo, meno V0, e questa tensione, la tensione sulla capacità, comincia a scendere esponenzialmente, con costante di tempo R e C, e asintoto meno V0. quindi questa è costante di tempo R per C, e asintoto meno V0. Fino a che punto? Beh, questo percorso viene fatto finché la tensione sul meno non raggiunge la tensione sul più, quindi fino a questo punto, perché qui questa rimane a meno beta V0, in questo punto le due si incontrano, e a questo punto la tensione V meno, che è la tensione, la tensione Vc, che è la tensione sul meno, scende sotto la tensione sul più, e quindi abbiamo la commutazione e il comparatore torna con l'uscita in alto. Va bene? Quindi in questo istante abbiamo che il comparatore torna con l'uscita in alto, così. Quindi fino a questo punto l'uscita rimane basso, qui torna con l'uscita in alto, a più V0, la tensione sul più, su V più, va istantaneamente a beta V0 di nuovo, e adesso che cosa succede? La capacità di nuovo si comincia a caricare, perché vede una tensione attraverso la resistenza R, una tensione più V0, quindi da qui comincia a caricarsi con la stessa costante di tempo R per C e con asintoto più V0. Quindi qui abbiamo costante di tempo R, C asintoto più V0. questo percorso in realtà viene percorso solo fino a un certo punto, perché quando poi la tensione sulla capacità arriva a Vγ, inizia a condurre il diodo e la capacità non si carica più. quindi qui si ferma Vγ. D'accordo? Allora a questo punto non si ha più la commutazione, non supera mai beta V0, quindi la commutazione non si ha più e quindi questa tensione qui rimane in modo indefinito. Va bene? Quindi abbiamo non un'onda quadra, abbiamo soltanto una semionda e quindi questa quella funzione che si chiama gate, cioè un intervallo di tempo prefissato che chiamiamo di durata che chiamiamo T grande per esempio, durante il quale la tensione cambia valore. Poi per avere un altro cambiamento cosa bisognerà fare? Bisognerà per esempio a questo punto mandare un altro impulso di ingresso, se si manda un altro impulso di ingresso chiaramente si ha lo stesso andamento questo scende giù uguale a prima dura un certo tempo T e poi risale e qui di nuovo abbiamo lo stesso andamento quindi ogni volta che arriva un impulso in ingresso abbiamo un impulso in ingresso di una forma che non mi importa sia precisa in uscita abbiamo un impulso di forma precisa e durata T grande questo impulso di innesco dell'impulso rettangolare si chiama trigger quindi il trigger è quello che in generale il trigger è l'impulso dell'innesco il trigger è anche il greletto della pistola che fa partire il colpo ok un meccanismo abbastanza semplice è utile vedere un attimo quanto dura l'impulso è abbastanza facile perché si tratta di studiare questo andamento esponenziale abbiamo un esponenziale che ha costante di tempo rc assintoto meno v0 e parte da v gamma quindi la durata è l'intervallo che c'è tra v gamma e meno beta v0 quindi chiamiamo 0 questo istante di tempo la vc di t per t maggiore di 0 come è fatta allora andiamo un po' per per t compresa tra 0 e t grande vc di t come è fatto abbiamo detto parte da v gamma a come assintoto meno v0 e a come costante di tempo rc questa come la posso scrivere la posso scrivere così per esempio vi ricordate c'è un esponenziale più una costante ora con un po' di sapendo già dove voglio andare a parare posso scrivere l'esponenziale in questo modo vedete posso dire qui ho v0 più v gamma per e alla meno t su rc questa è la componente esponenziale che è l'ampiezza da cui si parte v gamma più v0 più quando t tende a infinito questa roba qui tende a 0 e la si rimane soltanto l'asintoto che è meno v0 vedete torna c'è parte esponenziale con costante di tempo rc più parte costante l'asintoto torna quando t tende a infinito l'esponenziale va a 0 e rimane soltanto l'asintoto che è meno v0 quando t è uguale a 0 invece vedete come è scritto il coefficiente di e mi rimane v gamma e basta che l'esponenziale va a 1 quindi v0 e v0 si semplifica rimane v gamma allora questo è l'andamento poi che cosa so io che all'istante finale dell'impulso rettangolare quando c'è la commutazione vc vale meno beta v0 e quindi con questa condizione posso trovare t grande quindi sostituisco v gamma più v0 per e elevato a meno t grande su rc meno v0 quindi io qui ho v0 che moltiplica 1 meno beta uguale v gamma più v0 che moltiplica per e alla meno t su rc quindi posso ricavare direttamente t t sarà uguale a rc per il logaritmo di che cosa di v0 più v gamma diviso v0 per 1 meno beta ecco ecco quindi vedete scegliendo opportunamente quei valori posso imporre il t che voglio va bene va bene allora dunque torniamo un attimo sul funzionamento del circuito e vi voglio far notare una cosa qui c'è un piccolo come dire un piccolo inconveniente vedete in realtà nel momento in cui finisce l'impulso rettangolare il circuito non è ancora a regime non è ancora in condizione di riposo perché perché la tensione qui sulla capacità è ancora sta ancora variando quindi in realtà il circuito raggiunge la tensione di riposo qui dopo un po' che è finito l'impulso rettangolare cioè quando la tensione sulla capacità raggiunge v gamma a quel punto non cambia più niente tutto è fermo perché dico questo perché è importante perché se per esempio arrivasse un ora non voglio rovinare il disegno quindi non vi fa scrivo sopra però se arrivasse un altro impulso v in questo in questo istante quando ancora la tensione sulla capacità non è arrivata a v gamma che cosa succederebbe ok immaginate un po' la situazione avremmo la transizione di nuovo però stavolta la durata del dell'impulso rettangolare sarebbe diversa perché la scarica partirebbe della capacità partirebbe non da v gamma ma da un valore più piccolo quindi che cosa vuol dire farebbe prima ad arrivare a meno beta v zero e avremo un impulso di durata inferiore a quella desiderata d'accordo quindi diciamo questo circuito come l'ho disegnato ha un inconveniente che gli impulsi di trigger non possono essere troppo ravvicinati bisogna dare il tempo quando è finito l'impulso rettangolare che il sistema vada a riposo perché altrimenti la durata dell'impulso rettangolare non è garantita chiaro? ripeto la durata dell'impulso rettangolare è determinata dalla tensione di partenza dall'asintot e dalla costante di tempo se la tensione di partenza cambia la durata dell'impulso cambia ci sono casi in cui questo inconveniente è fastidioso quindi si preferisce adottare un circuito che in realtà possa non imponga nessun vincolo alla distanza tra due impulsi di trigger distinti circuito che comunque nel momento arriva l'impulso di trigger comunque dia una durata prefissata comunque anche a costo di essere un pochino più lento e ve lo faccio vedere la soluzione che risolve questo problema che è quella di utilizzare in pratica non un comparatore con esteresi ma un comparatore senza esteresi allora questo è un generatore di impulso secondo tipo questo è senza vincoli sul segnale di trigger allora circuito è semplice in realtà è fatto così in pratica come dicevo si usa un comparatore semplice con l'imitatore tanto per per una transizione tra le stesse tensioni quindi questo qui è più o meno v0 e tutto qua questa è la v allora com'è che si raggiunge lo scopo bisogna fare in modo che quando arriva l'impulso il transitorio di carica sia esattamente lo stesso quindi in pratica si parta sempre dalla condizione nota di carica della capacità una cosa si realizza in questo modo vedete allora questo è un comparatore semplice e questo questa qui è la tensione v più di soglia vedete che è una frazione della vcc quindi v più sarà uguale a r1 diviso r1 più r2 per vcc possiamo chiamarlo beta vcc per analogia con le grandezze che abbiamo definito prima quindi questa è costante la tensione sulla capacità invece com'è che varia questa vc vedete se il mosfet è spento abbiamo che la capacità c si carica attraverso la resistenza r a tensione vcc quindi a riposo vale vcc e questo vuol dire che a riposo la tensione sull'ingresso meno è maggiore della tensione sull'ingresso più e l'uscita del comparatore è bassa è meno v0 allora com'è che funziona il comparatore se v-in se arriva ad un impulso positivo su v-in e accende il mosfet il mosfet che conduce scarica completamente la capacità quindi la vc va a 0 e a questo punto il comparatore commuta appena rilascio v-in quindi la riporto in alto la capacità che è completamente scarica comincia a caricarsi con costante di tempo r per c fino a tensione vcc e nella carica passa dal valore beta v0 e il comparatore riscatta d'accordo banalmente quindi quando arriva l'ingresso un impulso stavolta serve positivo su v-in la capacità si scarica attraverso il mosfet la vc va a 0 e poi quando v-in torna basso il mosfet si stacca si interdisce di nuovo e la capacità quindi si può caricare allora di nuovo facciamo il facciamo di nuovo una rappresentazione di queste grandezze la v-in la tensione sulla capacità la v-piu e la v ok vediamole di nuovo nel tempo allora immaginiamo che questa qua sia v-in allora questo è il tempo qui ci mettiamo v-in qui ci mettiamo la v-c e la v-piu che vanno confrontate tra di loro e qua mettiamo v allora abbiamo detto al riposo v-in è basso v-piu e siccome dunque cosa abbiamo detto aspettate torniamo un'anzimo niente abbiamo detto v-in è basso v-c è quindi pari a v-c-c v-piu è beta v-c-c e quindi l'uscita del comparatore è bassa è meno v-zero torno indietro abbiamo detto quindi che v-c prendiamo che sia questo v-c è uguale a più v-c-c v è uguale a meno v-zero e v-piu è uguale v-piu non cambia mai quindi posso scriverlo in questo modo no facciamo proprio una retta v-piu è beta v-c-c quindi è una costante va bene allora questa è la situazione immaginiamo che a questo istante arriva un impulso in alto positivo di v-in quindi questo immaginiamo che sia l'istante 0 ok cosa succede quindi qui v-in va alto e poi va in alto e poi in basso la forma esatta non mi importa quando v-in va in alto la capacità scarica si scarica tutta molto rapidamente quindi questa attenzione qui era v-c-c comincia a scendere molto rapidamente qui proprio quasi immediata la cosa e quindi in questo punto passa sotto beta v-c-c e quindi l'uscita commuta quindi vedete in questo istante abbiamo questo attraversamento il comparatore scatta la tensione d'uscita del comparatore va a più v-zero ora qui l'impulso finisce di ingresso e quindi la capacità torna a essere libera e quindi può caricarsi attraverso la resistenza r attenzione v-c-c quindi qui comincia la capacità rappresento mi serve un nero ecco così comincia a caricarsi no esagerato comincia a caricarsi con costante di tempo r-c quindi qui cosa bisogna indicare dunque costante di tempo r-c e asintoto v-c-c va bene nel caricarsi a un certo punto passa da qui in questo istante passa da essere inferiore a v-piu ad essere superiore quindi in questo momento abbiamo la commutazione del comparatore d'accordo? quindi in questo istante il comparatore commuta quindi ricapitolando questo fa così in questo istante il comparatore commuta e torna basso ora la tensione sulla capacità continua e asintoticamente tende a valere v-c-c va bene quindi tende a caricarsi e a valere v-c-c il sistema non se ne accorge e anche all'uscita io vedo che l'impulso è finito quindi questo tempo t è facile da calcolare perché dobbiamo vedere la carica della capacità da zero fino a beta v-c-c d'accordo? allora quello che vi vorrei far notare è che a questo punto se arrivano impulso e trigger subito dopo non succede niente qui immaginiamo per esempio che arrivano impulso e trigger subito dopo qua ok qui quando la capacità ancora non è andata a regime arrivi un altro impulso e trigger perché in questo caso non succede niente di negativo perché in pratica l'impulso e trigger resetta la capacità cioè la fa partire da un valore noto quindi se arriva all'impulso e trigger qui per esempio così va bene la capacità si scarica tutta e poi comincia a ripartire quindi quando riparte parte da un valore che è uguale a quello di prima l'asintoto è lo stesso l'RC è la stessa il valore finale è lo stesso e quindi la durata sarà esattamente uguale di nuovo d'accordo? non c'è problema non c'è problema che avevamo prima quindi questo dura un'altra volta t quindi in qualunque momento arrivi l'istante trigger la durata del gate diciamo è esattamente t a partire dal momento in cui è arrivato l'impulso e il trigger si arriva quando è ancora finito il primo viene prolungato di una quantità pari a t grande quindi qui diciamo l'accorgimento che si fa che si adotta è quello di fare in modo che la capacità parta sempre da un valore noto per la carica allora è facile calcolare a questo punto quanto deve valere t esattamente per esempio che cosa devo valutare per il tempo compreso tra 0 e t grande come è fatto vc vc ha un esponenziale vedete lo disegno così un esponenziale più una costante quando t tende a infinito l'esponenziale va a 0 e quindi rimane soltanto la costante quindi la costante deve essere dell'assintoto che è vcc quando t è uguale a 0 invece vc deve valere 0 quindi se per t è uguale a 0 l'esponenziale vale 1 e vc deve valere 0 vuol dire che qui bisogna metterci meno vcc come costante quindi questo è l'andamento poi so che vc di t grande deve essere uguale a beta vcc e questa informazione posso utilizzarla per ricavare t grande vedete perché in pratica questa è la relazione e in questa relazione vcc si può semplificare che cosa mi viene mi viene che t è uguale a r per c per il logaritmo di 1 diviso 1 meno beta quindi di nuovo ho un tempo che dipende soltanto dai valori che ho scelto di resistenza e capacità ok non c'è da aggiungere molto altro direi qui d'accordo quindi abbiamo questo modo completato un po' di circuiti a scatto abbiamo visto insieme dei generatori di onda quadra e rettangolare dei generatori di onda triangolare dei generatori di impulso rettangolare quindi un po' con i circuiti a scatto diciamo le cose principali dei circuiti a scatto le abbiamo viste e direi a questo punto ne approfitterei per farvi vedere come si può fare per rendere asimmetriche le onde e così vi posso dare un esercizio su quell'argomento dunque vi ho fatto vedere dei metodi sto tornando indietro perché non ricordo esattamente dunque vi ho fatto vedere questo mettendo una vr da questa parte questo l'avevamo visto insieme e vi avevo detto guardate per rendere asimmetrica l'onda quadra si può mettere una vr qua oppure si può modificare questa tensione qua modificare la carica e scarica della resistenza bene questo aspetto l'abbiamo visto insieme questo aspetto l'abbiamo visto va bene allora vediamo l'esercizio di spice e poi ne parliamo un pochino insieme l'ultimo dunque allora progettare un generatore d'onda rettangolare con duty cycle un quarto e valori dell'onda più e meno 5 volt la frequenza anzi il periodo dell'onda dell'onda sia 300 sia 300 millisecondi bene allora qui vi metto una condizione un po' più una condizione di una forzatura quindi utilizzare un vincolo utilizzare diverse costanti di tempo per rendere l'onda asimmetrica qui giusto per forzarvi ad andare in una direzione vi ricordate abbiamo detto che per rendere l'onda simmetrica noi in realtà cosa possiamo fare possiamo cambiare gli asintoti cambiare le soglie tra carica e scarica oppure cambiare la costante di tempo quindi mi forzo in questo caso a modificare la costante di tempo come si fa a modificare la costante di tempo guardiamo un attimo insieme una cosa in pratica la cosa più ragionevole per modificare la costante di tempo è alterare un po' l'integratore non l'integratore sto parlando l'onda alterare la carica e scarica e fare in modo che avvenga in questo modo vediamo un pochino abbiamo bisogno di un comparatore con isteresi che è questo quindi qui la tensione V va da più a meno V0 poi qui c'è la carica la carica avviene attraverso una resistenza e però facciamo così mettiamo qui una capacità e qui lo portiamo a massa e facciamo in modo che ci sia una resistenza R1 attraverso cui avviene la carica e una resistenza R2 attraverso cui avviene la scarica questa deve essere collegata così quindi vedete che cosa si fa si usano due diodi e un diodo per la carica vedete quando la corrente passa in questa direzione perché deve caricare la capacità conduce di 1 e non conduce di 2 quindi carica conduce di 1 e quindi la costante di tempo è R1 per C d'accordo? durante la scarica conduce conduce di 2 e quindi la costante di tempo è c'è R2 soltanto nel percorso la costante di tempo sarà R2 per C va bene? quindi vedete abbiamo una costante diversa per la scarica una costante diversa per la carica le soglie sono uguali gli asintoti sono uguali ecco gli asintoti in realtà per fare conti più precisi questo ve lo anticipo bisogna tener conto della V gamma dei diodi quindi vedete in pratica il diodo che conduce si comporta come una batteria di valore V gamma per cui l'asintoto è V0 meno V gamma oppure meno V0 più V gamma cioè c'è da togliere V gamma all'asintoto perché mi toglie attenzione il diodo in alcuni casi posso trascurarlo però nel caso che probabilmente andate a trattare adesso voi non è proprio così perché la V0 non sarà tanto alta ma avete bisogno di più o meno 5 volte quindi 0,7 rispetto a 5 non è così grande non è così piccola da potersi trascurare quindi è bene tenere presente che l'asintoto è V0 meno V gamma allora quindi che cosa succede qua dentro succede la seguente cosa che durante la carica durante la carica della capacità l'uscita è alta perché la tensione V più è più alta è la tensione V meno se vi ricordate quindi l'uscita è alta poi a un certo punto avremo una cosa e noi vogliamo un newt cycle di un quarto quindi che cosa avremo avremo una cosa del genere la tensione Vc sulla capacità deve variare tra più beta V0 a cui c'è il primo stacco e meno beta V0 a cui c'è l'altro stacco l'uscita è alta quando la capacità si carica ed è bassa quando la capacità si scarica la capacità tende sempre ad asintoto pieno più V0 meno Vgamma oppure meno V0 meno Vgamma d'accordo? quindi questi sono gli asintoti allora se vogliamo un newt cycle di un quarto bisogna che la carica la carica parte da meno beta V0 va qua deve arrivare molto rapidamente quindi la costante di tempo tau 1 R1 per C1 di carica e invece la scarica deve avvenire più lentamente in modo da avere una durata più lunga della semionda negativa la carica rapidamente la scarica lentamente va bene? quindi su questo grafico vi faccio vedere come varia V V ha un andamento di questo tipo questo è V questo è il tempo qui durante la salita l'uscita è alta è più V0 poi qui abbiamo la commutazione e l'uscita diventa bassa e tende ad andare a meno V0 poi qui va alta eccetera eccetera qui l'andamento è fatto in questo modo eccetera quindi questa pendenza allora in pratica se andate a vedere le informazioni che vi ho dato vi ho detto quanto deve durare la semionda positiva quanto deve durare la semionda negativa e quindi potete calcolare tau 1 tau 2 e quindi di conseguenza calcolare i vincoli su tutti i parametri R1 C eccetera eccetera è un esercizio uguale a quella dimostrazione che vi ho fatto l'unica cosa che cambia è che tau 1 e tau 2 devono essere diversi e quindi dovete procedere nello stesso modo che abbiamo visto insieme per gli altri progettini fate prima il progetto a penna è carta e determinate la forma del circuito e i valori di tutti i componenti in base ai vincoli che vi ho dato poi prendete il circuito lo portate su spice e fate un'analisi in spice di un transitorio e dovreste vedere come transitorio in un certo intervallo di tempo quest'onda rettangolare ecco poi ci può essere bisogno di aggiustare un po' alcuni valori in modo da far tornare tutto come al solito entro il 5% l'errore d'accordo va bene allora dunque con questo interrompo la registrazione parliamo un pochino a un pochino di un pochino è buono